buona giornata amici da massimo foghetti oggi è sabato 19 marzo 2022 bene questa mattina l'alba è stata infuocata il cielo era sereno soprafano e quelle rossore che apparso all'orizzonte ha fatto ricordare la bellezza della natura ma allo stesso tempo quello che sta accadendo in ucraina dove il cielo diventa rosso non per il sole che sorge ma per le bombe che stanno esplodendo nei palazzi appunto delle città una situazione che si riflette sui giornali lo vedremo ancora oggi si parla di tanti profughi che giungono nel nostro territorio passiamo ora al santo del giorno è un santo è un santo conosciuto da tutti 19 marzo viene detto per così di viene detto direttamente san giuseppe san giuseppe uno dei santi più venerati della chiesa cattolica del cristianesimo padre reputativo di gesù oggi si direbbe non biologico padre non biologico ma in realtà fu un padre a tutti gli effetti lo protesse quando gesù era in pericolo a causa delle persecuzioni di cui era stato fatto oggetto da parte di erode che poi fu l'autore della strage degli innocenti curò la sua fanciullezza la sua giovinezza gli insegnò un mestiere un mestiere ed è anche il protettore non solo dei papà oggi è la festa dei papà ma anche dei lavoratori perché fu un lavoratore indefesso un lavoratore semplice un falegname che però seppe con la sua manualità insomma sostenere la propria famiglia il sole a questa mattina sorge e sorto anzi alle 6 e 13 e tramonterà alle 18 e 21 passiamo alle previsioni del tempo vediamo che il tempo questa mattina è più sereno rispetto a quello di ieri ecco un po di nuvole nel sud delle marche più sole nel nord una nuvolosità dunque variabile a tratti più compatta specie nella mattinata e la sera sulle basse marche le massime raggiungeranno i 12-13 gradi il mare è mosso i venti ispireranno sulle coste da una direzione di est così come sull'interno e le temperature sono in calo erano 15-16 gradi nei giorni scorsi ora si sono un po abbassate a 12-13 gradi insomma ancora non fa molto caldo ancora la primavera deve nascere deve appunto fiorire questa mattina voglio farvi vedere appaiate le due prime pagine dei giornali del corriere adriatico e del resto del carlino vediamo se ecco si si riesce a inquadrarle vediamo la sintesi delle notizie dell'interno nel corriere adriatico abbiamo un'inchiesta su rifiuti un'inchiesta shock a livello regionale e poi pesaro ancora festeggia la vittoria al concorso di città di capitale nazionale della cultura un appeal che già vale il 30 per cento perché poi si trasforma in soldini e poi la cronaca rapinato al parco a processo solo uno del branco altri quattro sono ancora da individuare a pesaro servizi pubblici paolini ognuno per la sua strada e si parla della contrapposizione non della fusione tra aset e marche multiservizi e poi ancora il pd il partito democratico nella bufera con il ritorno di curti la manzi in uscita e niente congresso punto in interrogativo ancora sul green pass guida completa alla nuova vita si cambia con il green pass vengono stemperati i provvedimenti di tutela per quanto riguarda la pandemia e poi c'è il provvedimento della costura per quanto riguarda l'arrivo dei profughi tutte le disposizioni da osservare per ospitare i nuovi arrivati dalla ucraina invece sul resto del carlino vediamo una bellissima foto di una bambina è giunta pesaro da kharkiv si tratta della piccola diana che stasera sarà sul palco della pescheria a festeggiare con il pianoforte la vittoria di pesaro alla c come città come capitale della cultura qualche sintesi di notizia qui sulla spalla 13 profughi con un bagno solo servono appartamenti difficoltà anche per chi ospita coloro che giungono da questa terra martoriata e poi un nuovo presidente dell'ordine dei notai è un fanese ed è stato eletto de martino per quanto riguarda invece lo sport un big match al benelli per la vis arriva il modena che è capolista una partita da far tremare i polsi bene apriamo ora il corriere adriatico sulla pagina di fano e vediamo come l'apertura è dedicata a una speranza a un ospicio fano diventi la città della pace a 30 anni dall'idea dei bimbi è la proposta di alfredo pacassoni colui che ha ideato il progetto fano città dei bambini allora fu ideato sulle stanze sulle pressioni fatte dai più piccoli per quanto riguarda la pace c'era la guerra del golfo 30 anni fa vi ricordate la guerra del golfo che poi ha generato tutta l'austerity si viaggiava a tra a targhe alterne non c'era la benzina non c'era il carburante ebbene la situazione si sta riproponendo proprio ora con la guerra in ucraina la proposta di alfredo pacassoni l'elogio di baldarelli tutto questo è nato poi si è stato riproposto in un convegno che si è svolto l'altro giorno nella sala della concordia del palazzo comunale fanese dove è intervenuto anche il sindaco di allora francesco baldarelli e ha che è stato rilanciato il progetto con una connotazione per quanto riguarda la pace più pressante fano città dei bambini un luogo dove i bambini possano crescere serenamente in pace e in letizia fratelli d'italia dovete sospendere gli accertamenti tari il partito d'opposizione rilancia le istanze dei fanesi su asseriti errori di calcolo ebbene la pandemia la guerra in ucraina non possono far dimenticare i problemi di alcuni fanesi anzi di parecchi fanesi che hanno avuto gli accertamenti sulla tari da parte di andreani tributi sono accertamenti esosi si deve pagare parecchio magari per errori di calcolo qualcuno poi l'hanno fatto nemmeno in buona fede per cui è una situazione questa da sanare e fratelli d'italia chiede all'amministrazione comunale di non dimenticare questo aspetto che ha sollevato tante ansie tante preoccupazioni in molti fanesi e poi sul Corriere Adriatico si parla ancora della Fano Grosseto guinza subito la progettazione della seconda canna del traforo sono le richieste dell'assessore regionale Francesco Baldelli all'ANAS il bypass di mercatello contestuale all'apertura della galleria sono queste le richieste urgenti che l'assessore regionale ha rappresentato in una lettera che è stata inviata all'amministratore delegato di ANAS Aldo Isi per puntualizzare tempistiche modalità e caratteristiche dell'infrastruttura dopo l'incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Roma insomma si insiste perché il governo l'ANAS ancora nicchiano vogliono completare la Fano Grosseto a due corsie il che non sarebbe in sintonia poi con le esigenze reali del traffico che percorrono questa arteria per il sindaco e la giunta si ritocca lo stipendio è una notizia che fornisce il Corriere Adriatico nella giornata di oggi sono state aggiornate le indennità del primo cittadino dal primo gennaio di quest'anno e poi aumenteranno anche nel corso del 2023 e del 2024. Quanto prende un sindaco che governa una città di 60.000 abitanti? Ebbene dal primo gennaio di quest'anno il sindaco di Fano percepisce uno stipendio di 4.941 euro fino al 2021 prendeva 3.904 però che cosa accade il primo gennaio del 2023? Ebbene lo stipendio del sindaco da 4.941 dal primo gennaio del 2023 passa a 5.472 euro e poi dal primo gennaio del 2024 passa a 6.210 euro ebbene passare da 3.9 a 6.200 insomma è un bel balzo dobbiamo dire che a 3.9 insomma un sindaco con tutte le responsabilità e i rischi che ha per la gestione amministrativa di una città complessa Fano è la terza città delle Marche era in realtà uno stipendio ridotto se poi paragonato a quello che prende per esempio un consigliere regionale o addirittura un parlamentare vediamo che il presidente della regione Marche prende 13.800 euro lordi al mese insomma uno stipendio veramente da favola si può dire perché 13.000 euro al mese insomma sono parecchi soldini e il sindaco raggiunge anzi raggiungerà nel 2024 6.210 euro e con lui aumentano anche gli stipendi degli assessori e del presidente del consiglio comunale. Un assessore per esempio un assessore il vice sindaco diciamo così prende 3.706 euro da quest'anno poi passa a 4.104 nel 2003 e 4.657 nel 2024 insomma qualcosina in più non fa male per chi governa la città. Giriamo pagina e vediamo il progetto che l'amministrazione comunale ha reso noto per quanto riguarda l'intervento sulla corte malatestiana e sui giardini leopardi a Fano. Verranno realizzati dei giardini delle grandi aiuole verdi all'interno della corte che in passato era un teatro all'aperto. Sguardo oltre la siepe l'infinito ispira i nuovi giardini leopardi e proprio l'infinito di leopardi ha ispirato questo progetto. Un progetto che è stato realizzato da uno studio. Si tratta dell'architetto ferrarese Laura Mazzei, Alessandro Busca, ingegnere di N7 di Bologna e lo studio Panni Design che con Claudio Panni muove proprio dall'analisi dei deficit attuali insomma all'interno della corte malatestiana attualmente è vuoto, è un po' anonimo, insomma non ha una caratterizzazione precisa un domani verrà così caratterizzato con delle aiuole e delle panchine. Comunque l'investimento è notevole perché si parla di un milione e 800 mila euro. Capitale della cultura mancò il gioco di squadra è una presa di posizione dell'opposizione della Lega che insomma dopo la vittoria di Pesaro rimpiange la sconfitta di Fano. Dice che Fano non ha coinvolto la popolazione e le associazioni come ha fatto Pesaro e per questo ha commesso un errore e quindi ha perso. Insomma questa è la presa di posizione della Lega. Passiamo a Fossombrone. Bianchetto sposato al Bianchello, al via gli eventi e le degustazioni. Nel pomeriggio si terrà l'inaugurazione a Fossombrone il Tartufo delle Cesane da scoprire una iniziativa di carattere no gastronomico che ha dei risvolti importanti sul fronte del turismo. E poi non come non evidenziare il pensiero di Giro Lomoni, Gino Giro Lomoni a dieci anni dalla scomparsa Alle 16.30 a Montebello ci sarà la presentazione della raccolta dei suoi scritti. Si tratta di una diretta streaming dal monastero di Montebello dove verrà la presentazione del libro Adonai ti aspetto sulla collina a cura di Dario Benetti edito dalla Fondazione Giro Lomoni e quaderni valtellinesi, insomma degli scritti di questo precursore dell'agricoltura biologica nel nostro territorio ma anche a livello nazionale. A Marotta la stagione turistica è incerta, ora serve più manutenzione, occorre cancellare le scritte vandaliche nei sottopassi e disporre meglio i cassonetti per la raccolta dei rifiuti. La minoranza critica sul degrado appunto che coinvolge diversi aspetti della città. E poi un incidente stradale, un tir urta il lampione statale paralizzata per ore. L'incidente è avvenuto ieri alle 17.30 all'uscita dell'area di servizio. Hanno pure staccato la luce, un autoarticolato guidato da un camionista ciecoslovacco nel fare manovra, ha stretto troppo sulla destra e ha ribaltato il palo della luce facendo sospendere l'energia elettrica. E vediamo anche la pagina di Senigallia dove vediamo che un medico molto conosciuto come il primario di cardiologia Antonio Mariani cessa il suo rapporto di lavoro. Lo fa volontariamente prima della scadenza del suo contratto per motivi personali. Lascio in anticipo, ha dichiarato il medico, il primario di cardiologia è ai saluti. È un fulmine a ciel sereno per l'ospedale di Senigallia, già alle prese con una carenza cronica di organico per cui non fa eccezione anche il reparto di cardiologia, un po' come tutti gli ospedali che hanno crisi e deficienze e carenze di medici. Passiamo ora alla pagina regionale dove vediamo questa inchiesta sui rifiuti. Rifiuti, inchiesta sciocche, ipotesi di corruzione, indacata anche la Casini. Anna Casini che era consigliera regionale ai tempi della presidenza Ceriscioli. È stato scoperto un traffico illecito di rifiuti che in sette anni avrebbe generato profitti per 4 milioni e 350 mila euro in danno alla discarica di Alto Bretta in comune di Ascoli Piceno dove pare si chiudesse un occhio sul traffico di certi tir che scaricavano rifiuti speciali. E' questo lo scenario ipotizzato da un'inchiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Ancona. L'indagine è giunta al capolinea con la notifica dell'avviso di chiusura indagini a 22 persone fisiche e a due imprese. Tra queste 22 persone c'è anche la consigliera regionale del PD Anna Casini che ora viene indagata. Ovviamente ciascuno poi potrà fare valere le proprie ragioni. Vediamo anche la pagina di Pesaro dove si festeggia, si parla ormai da giorni della vittoria al concorso di Capitale Nazionale della Cultura. Cultura, la PIL genera un effetto moltiplicatore che già vale il 30% in più. Il comune commissionerà uno studio su Traino e indotto di Pesaro Capitale. Il tour operator la città può puntare subito ad aumentare le presenze. Diciamo così, ma quanto vale il titolo di Pesaro Capitale della Cultura 2024? Ebbene per saperlo e per avere insomma la percezione esatta in soldini di quanto questo titolo vale, il comune ha commissionato uno studio corredato da un'analisi di numeri e su eventi e istituti culturali, tanto da quantificare il cosiddetto effetto moltiplicatore, perché poi un'iniziativa tira l'altro e tira presenze. Qui non siamo a Miss Italia, non è una gara di bellezza, il direttore culturale Agostino Riitano e le ragioni della vittoria di Pesaro. Insomma si analizza questo processo che ha portato un risultato così importante. Ed ora parliamo di profughi, parliamo di profughi perché la Questura ha riunito ieri un po' tutti i responsabili delle istituzioni e ha impartito disposizioni per quanto riguarda l'accoglienza di coloro che giungono dalla Ucraina. Ha fornito alcuni dati circa l'emergenza. I cittadini ucraini sono esonerati dall'obbligo di visto di breve durata e possono permanere fino a un massimo di 90 giorni ogni 180. Chi li ospita però dovrà formalizzare la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore dalla ospitalità. Occorre insomma presentare le generalità di queste persone per poter dare loro quei servizi essenziali. Prima di tutto per esempio il vaccino e i tamponi, insomma quelle assicurazioni di carattere sanitario che servono per contrastare la pandemia che è sempre presente nel nostro territorio. E poi uno dei servizi essenziali sono i corsi di lingua perché queste persone, molte non conoscono l'italiano, scuola e corsi di lingua siamo già nella fase 2, non soltanto l'accoglienza dei profughi, il comune al lavoro sull'integrazione. Da martedì iniziano lezioni di italiano alla parrocchia di Loreto, primi bimbi nelle classi, subito l'integrazione per i bambini a scuola. E qui invece vediamo quello che Paolini, presidente della provincia, ha dichiarato sui servizi pubblici locali o insieme ognuno per la sua strada. Ebbene non si fugge o si si fonde per quanto riguarda le realtà istituzionali presenti nel territorio e insomma non ci si scappa perché sono solo due, Aset e Marche Multiservizi, oppure ognuno andrà per la sua strada. E Fano ovviamente ha già deciso, però insomma si ritorna a discutere, Fano ha deciso di andare per la sua strada, però ogni tanto come ha fatto il sindaco di Urbino Gambini si cerca di ricomporre le due entità. Al momento però ognuno farà per conto suo e quindi è una nuova presa di posizione che rimane un po' così, fa sì che le cose restino come sono state trovate. E poi accerchiato e picchiato per il Rolex, ma del branco solo uno a processo. Si tratta di un 22enne, dei 5 rapinatori del Mirafiore 4 sono tuttora irreperibili. Centro basta con il porta a porta, isole ecologiche mobili per i rifiuti. E' una proposta di Lorenzo Lugli, dei 5 Stelle, che ha partecipato ad una riunione sulla raccolta dei rifiuti e insomma ha detto basta con il porta a porta, insomma vuole cambiare il servizio al suo posto, porre isole ecologiche mobili per i rifiuti. E vediamo qui un esempio su questa fotografia di questi cassonetti trasportati su un mezzo mobile. E vediamo sul resto del Carlino, abbiamo visto la prima pagina che riassume le notizie che sono all'interno. Vediamo che la pagina di Fano si interessa del caro carburante che insomma incide un po' sui bilanci di tutte le famiglie, molte delle quali lasciano la macchina in garage e vanno in bicicletta. L'aumento dei prezzi sta preoccupando le famiglie. I rivenditori, c'è un grande interesse per l'acquisto, si punta soprattutto sull'elettrico. Così ogni mattina rischio la vita passando in bici lungo quel tratto. Ebbene andare in bicicletta è bello, è ecologico, fa risparmiare, però è anche pericoloso, specialmente nelle strade. In questo caso si parla di Viale Primo Maggio a Fano dove non esistono piste ciclabili. Su Viale Primo Maggio passa la nazionale adriatica, quindi il traffico è molto intenso, specialmente nelle ore di punta e quindi chi va in bicicletta è un utente molto debole e esposto a tutti i rischi di un traffico invece aggressivo e veloce. Addio capitale della cultura, piovono polemiche, il sindaco un po' risponde alle critiche della Lega per quanto riguarda la perdita che Fano ha subito al concorso di città nazionale della cultura dopo che pesano invece. Ogni volta non si può sempre vincere e facciamo quindi gli auguri ai cugini pesaresi. Per quanto riguarda invece la solidarietà a Marotta, tra Torrette, Ponte Sasso e Marotta, sono stati raccolti quasi 8 mila euro nella cena di solidarietà in favore degli ucraini. È stata un'iniziativa che si è svolta nel ristorante Prima Secca. Giardini e Corte, che progetto? 1 milione e 800 mila euro è il finanziamento che il Comune punta ad ottenere per quanto riguarda la ristrutturazione di questo punto centrale della città di Fano. Arrivati 654 ucraini, metà sono bambini, siamo sulle pagine pesaresi. La questura rende noti i primi numeri delle presenze in provincia. La stragrande maggioranza di loro vuole rimanere a Pesaro e Fano. Perché? Perché Pesaro e Fano sono due città più dotate di servizi. Sanno quei centri dove puoi recarsi per rendere nota la loro presenza e quindi cercano di restare sulla costa. Ma ovviamente anche l'entroterra non è da meno per quanto riguarda l'accoglienza. E poi qui vediamo invece quello che accade nelle case dove la generosità straripa. In questo caso c'è una famiglia che ha ospitato, che sta ospitando 13 persone, però c'è un bagno solo. Insomma, si vorrebbe che qualcuno desse una mano a chi ha questo grande cuore per quanto riguarda l'accoglienza. Diana, che emozione suonare per voi. Diana è questa bellissima bambina ucraina, la piccola in fuga da Kharkiv. Stasera celebra in musica la proclamazione targata 2024 di Pesaro, capitale della cultura. Dedico tutto questo al mio Paese, ha dichiarato questa piccola pianista che aprirà le celebrazioni, la festa che si terrà questa sera alla pescheria di Pesaro. E poi apriamo ancora il resto del Carlino. Vediamo questo articolo che riguarda l'ordine dei notai. Inizia l'epoca di De Martino. Si tratta di Alfredo De Martino, 52 anni fanese, eletto presidente provinciale. Finisce l'era di Cesare Licini, che resterà consigliere anziano. Oggi è la giornata di sabato, quindi non possiamo tralasciare lo sport. Vediamo che la Viss si prepara a sostenere il big match al Benelli. Oggi c'è la capolista. Alle 17.30 il Super Modena cerca i punti per la B. Tesser schiera le bocche da fuoco. Banchini conferma l'11 di Reggio Emilia e si spera di riuscire a superare questo importante confronto. Fano scontri diretti fondamentali e il Monte Giorgio si può battere. E questa è la speranza di questa squadra che lotta per la salvezza. E noi qui ci fermiamo. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 per la rassegna stampa di inizio settimana. E intanto vi auguro un buon weekend e soprattutto una buona domenica. Questo è tutto. A risentirci.